Ma quindi è arrivato già il Natale? Ah no, non è oggi E allora questi cosa sono? Ah non sono per me? Sono per Giada Aspettiamo che torni Giada? Eh? Alla fine ho trovato una sorpresa, pensavo fosse per me, invece per te, la vuoi? Sì Eccole qua! Me ne dai uno dei tuoi? No, no, sono tutti me, sono stata io la più buona a Natale Ok Che cosa ci sarà mai dentro? No! È il puzzle di Nina e Matti! Quello da cento pezzi! Che bello! Oh! No, è il puzzle gigante! È sempre quello di Nina e Matti! Giada? Ma che bei regali ti hanno mandato Nina e Matti? Li ringraziamo? Sì Grazie!